shock a padova federica fassina già vittima di stalking subisce un nuovo attacco un uomo alto 1 90 travisato e il vestito di nero tre giorni fa sfonda una finestra della sua casa la picchia e fugge senza rubare nulla un sospetto non ho garanzie anche per alcune frasi che mi sono state dette si indaga sull'aggressione per capire se sia collegata al suo stalker attualmente in carcere non era né un compagno né un fidanzato né niente ma un semplice vicino di casa a cui io dicevo educatamente buongiorno buonasera in carcere da quattro mesi per stalking è stato denunciato da federica per almeno una ventina di episodi dal 2018 federica non lavora più si è chiusa in casa e ora dopo questo nuovo episodio di violenza ha paura ho provato a vivere però magari posso aver paura di cadere dove sono caduta prima allora un racconto veramente è un incubo partiamo dall'ultimo fatto quello del 7 febbraio si è introdotto in casa un uomo con una tuta da sub mi sembra di aver letto e capito e ha picchiato e ha aggredito questa donna che noi abbiamo in diretta buongiorno una donna che aveva denunciato che è riuscita a mandare in carcere il suo aggressore ma quella che vi ho appena raccontato sembra davvero una vendetta trasversale con un mandante alessandro buongiorno buongiorno a federica buongiorno 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 a tutti intanto ringrazio moltissimo federica perché il coraggio anche di far centrare in casa sua e rivivere quei momenti terrificanti di ormai quattro giorni fa lasciano senza parole siamo proprio dove è successo prima però di raccontarvi nello specifico quello che è accaduto il 7 di marzo è importante capire tutto il pregresso dal 2018 nascono dei diverbi possiamo dire con i vicini di casa che in qualche modo poi nel tempo arrivano sfociano in delle minacce prima verbali poi aggressioni intimidazioni che portano federica a fare oltre 20 denunce addirittura poi quest'uomo avrebbe tentato anche di investire sia federica che sua mamma che vive al piano di sopra che dopo ascolteremo e a fronte di questo poi è attualmente detenuto in carcere ma uscirà a pochissimi mesi quello che poi rimane insomma in sospeso e capire quello che è successo dopo questo perché già il primo di agosto proprio in questa finestra che adesso voi vedete che è spaccata perché appunto pochi giorni fa si è verificata l'aggressione l'irruzione in casa già il primo di agosto federica che come abbiamo detto ha smesso di vivere ora ce lo racconterà perché è terrorizzato ovviamente è molto molto impaurita perché pensate quattro anni ad avere condividere a convivere con un vicino che in qualche modo continuava come racconterà tra poco anche a minacciarla facendo dei gesti ti uccido eccetera il primo di agosto grazie a uno dei suoi cani viene avvisata federica di un rumore si avvicina proprio qui questa è la sua zona letto dove lei dorme si avvicina e vede proprio qui quest'uomo vestito di nero lo stesso uomo sembra federica che appunto pochi giorni fa è entrato in casa sua però grazie insomma al cane scappa e va di sopra dalla mamma e quest'uomo se ne va quindi non ruba niente non entra in casa no il primo di agosto assolutamente no quindi non entra il 7 invece di marzo lei è sempre qui raccontaci tu era erano le dieci e mezza di sera e cosa succedeva di sera io ho le mie abitudini perché comunque dopo cinque anni di non vita perché posso dire cinque riassumo in quattro forse meglio di non vita ho preso delle abitudini molto standard sugli orari e ero in sala avevo ancora tutte le luci accese luci su della casa di mia madre accese eccetera stavo guardando la televisione a una certa ora dopo si capisce che la noia è quella è anche solo il fatto di cambiare stanza diventa per me come una cosa sto facendo una cosa diversa ok poco prima però ho sbagliato io perché non ho letto un segnale del mio cane che mi aveva dato però il soccorso con la volta del primo di di agosto dove sono riuscita a scappare avevo il cancellato messo su un cancelletto tra reparto notte e reparto giorno perché sui cani sono diventati due quindi sarebbe un po un macello averli in camera tutti e due il cane era agitato da cinque minuti andava su e giù dal cancelletto alla cucina dal cancelletto alla cucina cercando di metterlo tranquillo fra me e me gli ho detto molto ironicamente gli ho detto olli non mi chiamare un un terremoto gli ho detto che non era proprio il caso dopo sono venuta di qua per prepararmi per andare a letto le cose che faccio appunto di abitudine mi sono seduta sul letto per spogliarmi dalla classica tenuta da casa perché quando si ha dei cani e dei golden retriever col pelo che hanno giustamente non puoi rimanere vestita come si vesti fuori a quel punto seduta sul letto ho sentito un botto sentendo questo botto distinto da seduta nel letto mi sono coperta il viso così con le mani e in una frazione di secondo nella mia mente ho pensato vuoi che essendo rimasto solo un vetro nella finestra tra caldo e freddo del riscaldamento sia scoppiato il vetro perché comunque ho sentito dei vetri venirmi addosso in quello comunque con le mani messe così ho intravisto saltare dentro nonostante l'allarme fuori stesse già suonando la stessa persona del primo di agosto dico la stessa persona perché non penso che padova abbia un sacco di persone di una statura da più di un metro e 90 stessa corporatura molto magra c'aveva la tutta da tuba assolutamente fisicamente anche dal modo in cui si muoveva magari sì quello diciamo magari sei un po più sei sei in panico però rischiario era lo stesso l'altezza il mandante sia quello in carcere allora io non mi permetto assolutamente di puntare il dito su nessuno perché ovviamente non ho prove quindi quando io non ho prove non punto il dito su nessuno ho un mio pensiero perché quando questa persona è entrata dentro come è entrata ha detto una parolaccia che ovviamente non si può dire ok e mi ha detto ti hai messo allarme da lì ha cominciato a picchiarmi tutto sulla parte sinistra del corpo perché mi ero adagiata sul letto buttando il peso sulla parte destra ok e nel mentre mi picchiava mi diceva smetti di rubare soldi da lì ho anche capito che c'era un accento dell'est ha continuato a picchiarmi l'allarme continuava a suonare a un certo punto ha smesso perché sono collegata con la casa sopra di mamma lei l'ha spento ha cominciato a chiamarmi al telefono il mio telefono era ancora in sala perché l'avevo messo in carica l'avevo lasciato di là e comunque avevo tutto acceso da spegnere alle solite cose che si fanno alessandro però facci capire scusami facci capire per sì esatto c'è un elemento molto importante del perché la storia è molto complessa sicuramente non è semplice spiegarla così chiaramente è ovvio anche che federica è molto sconvolta ed è difficile mettere insieme tutti i tasselli perché arriva a sospettare questo chiaramente senza accusare nessuno però è un sospetto perché oltre alla comunanza insomma tra la provenienza insomma entrambi con accento dell'est ovviamente dell'est questo è il primo tema il secondo però non c'entra nulla questo non è sufficiente l'elemento è che non ha rubato nulla uno e seconda cosa ha detto questa cosa dei soldi che hanno fatto capire a federica che forse c'è un collegamento rispetto appunto all'uomo che attualmente è in carcere perché spieghiamo perché i soldi primo di agosto io era da quattro mesi più o meno che ero riuscita con i miei avvocati quelli della parte civile di ottenere quello che il tribunale aveva deciso per me cioè il quinto dello stipendio e da questo ho potuto dedurre che questo mi dice smetti di rubare io non sono una persona che ruba non sono una ladra non so niente nessuno avanza soldi né da me e dalla mia famiglia per cui perché questa persona viene a dire smetti di rubare soldi e la frustava spiegava quindi è entrato un uomo che aveva visto completamente travisato che sapeva che aveva che l'allarme era spento invece l'aveva acceso la picchia lei dice non rubare i soldi e non ruba niente e scappa è difficile sinceramente pensare che fosse un ladro quindi sicuramente non è una casualità una persona che voleva colpirla e niente a che fare con i soldi o con una presunta rapina lei diceva non ho capito a che titolo ma forse risarcimento ha ottenuto dei soldi in agosto per la precedente condanna all'ex compagno io sono molto preoccupata per la situazione di questa signora perché tra un anno se non se non ho capito male chi è in carcere esce questo potrebbe essere un monito e quasi un avvertimento di una persona che potrebbe voler finire un lavoro che ha cominciato quindi questa questa federica deve essere tutelata dall'autorità ancora di più rispetto a quanto adesso perché comunque l'aggressione che ha subito è grave una persona estranea che le è entrata in casa la picchiata e per esperienza molto spesso anche dal carcere magari una persona che esce che ha condiviso la cella può essere indotta e spinta a fare delle attività vedremo dovremmo dobbiamo capire e soprattutto seguire il risultato delle indagini so che c'è anche rosanna la mamma di federica che volevo salutare abbracciare sì abbiamo una storia fra l'altro di stalking adesso da raccontare è anche vero che il primo di agosto non era in carcere ecco no beh sì 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 questi sono temi sono po no no sono dettagli poi chiaramente che andremo a valutare anche nel corso delle indagini e seguiremo salutiamo la mamma alessandro esattamente con una brava sì ci stiamo avvicinando la signora ci aspetta nella nell'altra stanza e volevamo anche farvi vedere insomma che peraltro nel bagno c'è anche una finestra che è un velux dove mi raccontava federica che quest'uomo la spiava anche insomma quindi sono stati quattro anni di terrore federica ha scritto anche un libro dove raccontava tutto tutta l'ansia la paura e la preoccupazione che viveva ogni giorno questo è il cane olli che appunto ha trovato allarme ad agosto e siamo qui appunto è stupendo siamo qui con la signora rosanna che è la mamma di federica signora cosa si prova da mamma a vivere questa situazione la signora vive proprio sopra federica meno male sono angoscia perché pensare che mia figlia sta così male e poi ho dovuto sempre stare attenta ai movimenti di lui cosa faceva cosa non faceva per controllarla perché lei non usciva più di casa lui usciva se lei se lei usciva lui andava a cercarla insomma è brutto si vive male perché sono cinque anni che viviamo così ecco però adesso c'è la paura che quest'uomo possa uscire a giugno siamo preoccupati perché se esce cosa facciamo come si come si comporterà lui per cui non lo so è difficile è dura loro hanno anche provato a vendere casa anche se erano appena ristrutturata ma è complesso chiaramente vendere casa specialmente in questo periodo quindi esatto sono due case mi dice mi suggerisce federica perché quindi non è proprio semplice vendere una struttura simile è il vicino per cui è il vicino è il vicino che attualmente è in carcere sì quindi chiaramente la famiglia è ancora qui perciò lei era insieme a federica quando ha tentato di di investirvi cosa ricorda di quei momenti stavamo camminando e la strada è stretta e più c'era una macchina parcheggiata in fianco per cui eravamo io mia figlia e il cane lui è uscito con la macchina quando è stato nel punto più stretto ha accelerato e mia figlia se non è pronta a buttarmi verso la muretta che avevamo in fianco e anche lei e il cane penso che eravamo sotto cioè quello che lascia senza parole è che tutto quest'odio nasce senza un motivo reale cioè semplicemente pare perché volevano fare dei lavori di ristrutturazione e avevamo chiesto quindi di mettersi d'accordo per dividere i terreni in modo insomma equo e da lì dal 2018 sono nate tutte queste problematiche vieni pure così lo puoi spiegare meglio se vuoi scusami Alessandro mi viene in mente Federica mi viene in mente una cosa perché adesso voi ci andiamo al fulcro della situazione voi avete paura che adesso lui quando ritorna fa le stesse cose che faceva prima tu fra l'altro dopo questa aggressione che potrebbe essere agganciata alle tue denunce e a quanto è successo negli ultimi anni tu hai paura che lui ritorni a farti del male ma chiedo avvocato se lui ritorna dovrebbe avere una misura di allontanamento tale per cui lì a casa vicino a Federica non ci può più andare il problema è che rispetto a queste vicende se una persona ha scontato la pena e ha fatto il suo percorso anche dinanzi al tribunale di sorveglianza e si dimostra che quindi è pronto per ritornare in società tu non puoi avere limitazioni a meno che una volta uscito però mi rendo conto ma siete sicuri? sì è così sei sicuro? perché purtroppo sai che cosa ti dico? va bene tutto però credo che il divieto di avvicinamento continui ad esistere con il reato distogli ma ti dico qual è il problema? è sempre la verifica che viene fatta il monitoraggio all'esito della carcerazione patita non esiste un fine pena mai non esiste una coercizione eterna è evidente la cosa che è quello che è quello che è io chiedo scusa vorrei concludere su questo tema però è evidente che in questo caso per queste cose che sono accadute si potrebbero applicare dei provvedimenti che nel caso più grave tu vedrai anche nelle altre vetrine che affronterai prevedono anche una forma di libertà vigilata una forma di controllo continuo che possa garantire le presunte persone offese in questo caso le persone offese perché c'è stata anche una sentenza passata in giudicato di condanno però la cosa anche rischiosa è che qua non si tratta di uno stalker di tipo affettivo cioè che si era invaghito ma questo è ancora peggiore ma qui c'è un rapporto di vicinato qui c'è un rapporto legato a conflitti patrimoniali e quindi il problema se non è stato risolto e tanto più se c'è anche il prelievo dallo stipendio il problema torna ad essere il fuoco che arde e che riaccende ancora il problema questa vicenda di adesso potrebbe aprire il focus e potrebbe consentire l'adozione di provvedimenti capito Federica cioè quanto ti è successo questa aggressione che tu hai avuto dice l'avvocato Sarno in studio avvocato penalista dice che potrebbe essere una opportunità una possibilità di cercare di ottenere delle misure cautelari diverse rispetto a quelle della sua uscita dal carcere cioè zero quando lui esce dal carcere in teoria può ritornare a vivere a casa sua ma la tua aggressione a quest'uomo che non si sa chi sia vestito con una tuta da sub però che ha fatto dei riferimenti ok dei riferimenti verso la tua situazione perché quando ti dice smetti di rubare i soldi probabilmente è legato ok a quel prelievo che tu hai fatto nella legalità nei tuoi diritti ok era di fare forse c'è la possibilità di difenderti anche dinanzi al se l'hai un avvocato sì penso di sì se si è costituito sì sì assolutamente per cui probabilmente degli strumenti l'onorio è quello che mi permetto di dire scusami l'onora visto che poi tu ci tieni sempre tantissimo a queste storie in particolare è un monito alle autorità e alle forze di polizia di fare molta attenzione a prestare molta attenzione che sicuramente lo staranno facendo ma sinceramente quando io ho parlato con Federica l'abbiamo fatto lungamente mi sono molto spaventato perché entrare da quella finestrella è molto difficile cioè sembra veramente che fosse tutto molto studiato e preparato e quel tipo di violenza veramente io ho visto anche i lividi sono veramente spaventosi lasciano presagire temo altre una recidiva altri episodi analoghi quindi veramente sarebbe necessario che questa famiglia e queste due signore meravigliose ne siano messe in sicurezza e protette per davvero però per non arrivare qui magari tra un mese e dire ah non lo sapevamo potevamo farlo cioè chi le ha fatto del male può continuare a farlo immagino che su queste questioni scatti anche il codice rosso è vero che adesso l'aggressione è avvenuta attraverso un uomo anonimo che non sappiamo mister x non sappiamo chi sia però è anche vero che comunque dopo un'aggressione di questo genere nella propria abitazione dovrebbe scattare il codice rosso per cui dovrebbero scattare tutte quelle procedure adeguate alla difesa alla tutela di questa donna e anche della madre perché perdonatemi sono due donne oggi che rischiano perché c'è anche la mamma lì che abita lì e per cui io molte volte in passato è stata minacciata anche lei come anche mio padre quando riusciva scongiurandomi è una cronaca di un evento annunciato lo stanno annunciando se volessimo dire tornare di nuovo come fa Eleonora nella trasmissione come fanno i colleghi ma ci dobbiamo tornare ci sono dei segnali se tu i segnali non li colli e non provvedi non puoi dormire a casa solo no ma infatti cioè non puoi andare in giro con la macchina come parlavamo prima no ma poi vedo Federica assolutamente provata cinque anni di stalking pensate a quello che ha dovuto subire la mamma Rosanna provatissima io vorrei intanto guarda posso dirti Federica la cosa importante io me ne accorgo anche in queste storie e in generale nelle storie delle persone che sono minacciate è importante la luce dell'informazione perché dico luce perché l'informazione permette anche questa che stiamo facendo permette di non lasciarvi sole e che non siate abbandonate e soprattutto permette di mettere in risalto un fatto come il vostro che ha bisogno assolutamente ora nell'emergenza e urgenza di tutela immediata per cui ci occuperemo insieme al nostro Alessandro Politi di chiedere come mai questa tutela oggi non sia già effettiva mi dispiace ma nessuno tutela questa donna che è stata aggredita il 7 marzo cioè qualche giorno fa e prefetto vuole intervenire ho capito però vogliamo delle risposte vogliamo delle risposte perché nessuno si può permettere di fare del male ad una donna grazie allora io tengo accesa adesso questa finestra perché continuo a occuparmi di stalking e non solo il responsabile dell'omicidio di Santa Scorese